Sono state consegnate a Napoli, nella sede del Consiglio regionale della Campania, le due borse di studio messe a disposizione dall'AREC, l'Associazione Ex Consiglieri Regionali della Campania, per il Dottorato di Ricerca di Scienze Agrarie e Agroalimentari dell'Università di Napoli Federico II. Numerosi partecipanti che hanno presentato alla Commissione giudicatrice la tesi su tematiche di ricerca di interesse regionale nel campo del risanamento ambientale, riferite agli anni accademici 2015-2016 e 2016-2017, così come richiesto dal bando. Alla cerimonia di consiglia delle borse di studio hanno preso parte i componenti dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale della Campania, il Presidente della Commissione giudicatrice Carmine Iodice, insieme con le componenti in rappresentanza dell'Università degli Studi di Napoli Federico II, Maria Antonietta Rao e Paola Adamo. Questa premiazione mette in condizione le istituzioni di essere a sostegno di una fascia, di un livello di cittadini campani che rappresentano il futuro, perché secondo me gli studenti, i giovani, che molte volte vengono considerati le classi più reiette in questo momento di difficoltà della regione campania, rappresentano anche il futuro. Con questo premio AREC si vuole dare molta importanza agli aspetti ambientali, o meglio, con maggiore precisione, al recupero ambientale. La nostra regione, ma non solo la nostra regione, il nostro territorio italiano ne ha bisogno e ha bisogno di persone che abbiano le conoscenze e le competenze per affrontare questi lavori nelle diverse problematiche. Due tesi che, secondo me, a parte la qualità proprio della ricerca condotta, meritano attenzione, perché le bonifiche oggi sono molto costose e assolutamente bisogna approfondire la possibilità di utilizzare tecniche sostenibili e più economiche per riqualificare i siti contaminati. Grazie. 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 Grazie.